Elezioni comunali di La Terza il 20 ed il 21 settembre si voterà per eleggere il sindaco e il consiglio comunale della comunità Laertina. Ho al mio fianco Agostino Perrone, detto Costantino, che è consigliere comunale uscente, una lunga esperienza amministrativa, da assessore poi negli ultimi nove anni da consigliere di opposizione, candidato, lo dicevo, con Fratelli d'Italia al consiglio comunale, è candidato anche alla regione, al consiglio regionale a sostegno del candidato presidente Raffaele Fitto e il candidato sindaco del centrodestra unito è appunto il dottor Cefalo. E allora ho volutamente usato, sottolineato l'espressione unito perché le varie anime di centrodestra hanno trovato un elemento, un momento di sintesi, di unità, cosa che in passato non accadeva. Devo dire che quattro anni fa noi ci siamo candidati, cioè in questa coalizione ci sono quattro candidati, ex candidati sindaci del 2016. In base all'esperienza avuta, diciamo che è maturata l'idea di mettere da parte il personalismo. Ecco, siamo proprio, voi direte il bello della diretta, qui ci troviamo, ne abbiamo parlato anche nella pineta comunale di La Terza che giace nel più completo degrado e abbandono tra erbaccia e insetti e purtroppo anche noi siamo diventati preda degli insetti, ecco perché questi movimenti strani. Ma è bello non far vedere le cose come stanno, purtroppo il degrado lo si evince anche in queste interviste. Dunque, diceva che ci sono stati, ora si è giunti a un momento di sintesi con quattro ex candidati sindaco che sostengono Cefalo. Oggi c'è anche Raffaele Parisi che viene dal centro-sinistra, lui faceva parte della coalizione del centro-sinistra, oggi sta insieme a noi a supporto di questo... del dottor Cefalo. In che modo si vuole invertire la rotta, cioè un momento di discontinuità rispetto al passato? Le richieste, l'elemente della gente, dei cittadini è stata talmente forte che ci ha portato, ha convinto noi di fare una coalizione unita per smantellare questo sistema e questa amministrazione che ha fatto dei danni. Ecco, come percepite? Un po' vedete, notate la fiducia della gente, l'entusiasmo? Sì, perché la gente, in base a tutti i problemi che ne abbiamo citati alcuni, ma la gente è diciamo esasperata di questa gestione, anche perché è una gestione molto clientelare e tra di noi, dopo tanti incontri, abbiamo preso la nostra decisione, non chiedendo niente, io personalmente, se sarò eletto... Sarà un soldato? Un soldato, sì, io lo dichiaro pubblicamente perché non ho problemi, posso fare il soldato semplice, a sostegno di Angelo Cefalo. Più di qualcuno si prende, diciamo, noi diciamo Appetskert, che dietro Angelo ci sono i vecchi, i vecchi. Io credo che conoscendo Angelo, che è autonomo alle decisioni, ha una bellissima sensibilità nei confronti dei cittadini, dobbiamo rispettare prima lui.